Questa sconfitta che lascia tanta mare in bocca, forse dal punto di vista della prestazione è stata una delle migliori partite dell'ultimo periodo, però poi tre gol subiti. Sì, sì, noi avevamo preparato bene la partita, purtroppo oggi è un campo sintetico, brutto tempo, ci dispiace tanto questo brutto risultato, però per fortuna tra quattro giorni c'è un'altra partita e ci dobbiamo subito riprendere. Soprattutto perché i gol sono arrivati tutti da errori individuali del Pescara, anche forse il secondo con Cardoselli che ha staccato troppo libero, ma primo e terzo errori chiaramente individuali. No, vabbè, sono cose che sicuramente in questi giorni vedremo, le guarderemo meglio e sicuramente cercheremo di migliorarle per non farle di nuovo. Il tuo impatto alla partita è importante, da seconda punta dietro Lescano, poi dietro Vergani, ci eravate quasi riusciti nella rimonta alla fine? Sì, quando abbiamo subito riaperto la partita ci abbiamo creduto veramente perché stavamo facendo bene, ormai avevamo preso le misure sul campo e stavamo attaccando in continuazione. Dispiace aver preso il terzo gol che un po' ci ha ammazzato, siamo riusciti di nuovo a riaprirla che secondo me non era neanche facile perché quando ti ammazzano la partita così nel secondo tempo. Però come ho detto prima non dobbiamo pensare, per fortuna c'è una nuova partita tra poco, quindi ricarichiamo le pile e ci facciamo subito trovare pronti per Taranto. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo Gigi, nell'assetto tattico del secondo tempo quando tu sei entrato hai fatto da seconda punta con due esterni offensivi come De Sogus e delle Monache. La sensazione è che ti muovevi meglio per via centrali? A me davanti, l'ho sempre detto, mi piace giocare un po' ovunque, do una mano alla squadra, cerco di aiutare tanto la squadra come ho sempre fatto, mi faccio sempre trovare pronto per il mister, quello che faccio io lo dobbiamo fare tutti. Mi dispiace tanto aver perso questa partita perché volevamo riprenderci subito dopo la sconfitta di Catanzaro e dobbiamo subito rimetterci a posto e pensare alla prossima.